Il segno è ancora positivo, ma la tendenza nel terzo trimestre 2011 è di netto rallentamento. La produzione industriale segna un più 0,2% in calo rispetto al trimestre precedente, più 2,2% la variazione tendenziale annua. Il ciclo industriale sta decelerando, i segnali di indebolimento rimasti sullo sfondo nei mesi scorsi si sono ora concretizzati. Sono preoccupanti i dati contenuti nell'indagine congiunturale realizzata dalla Camera di Commercio. Ci sono comunque settori che ottengono progressi rilevanti come la meccanica e la siderurgia, mentre tessi e l'abbigliamento dopo una fase positiva di recupero sono di nuovo in flessione. Calano gli ordinativi sia interni ma anche esteri e questo è il rischio maggiore per il nostro sistema manifatturiero che da sempre è trainato dalle esportazioni. L'unica buona notizia viene dall'occupazione che registra un aumento dello 0,4% e un minore impiego della cassa integrazione. Ma se l'industria mantiene, seppur affatica, le proprie posizioni, negli altri settori la crisi ha colpito pesante. Artigianato manifatturiero, meno 1,5%, commercio, meno 4,2% e per la prima volta anche il settore alimentare segna un netto calo, meno 6,3%, servizi, meno 2,55%. In questi comparti non tiene ovviamente neppure l'occupazione. Le aspettative degli imprenditori bergamaschi virano in terreno negativo. Da un lato il calo degli ordinativi che tocca tutte le fasi della vita di un prodotto, dalla produzione alla vendita. Dall'altro i timori sempre più fondati di un impatto ancora maggiore della crisi finanziaria sull'economia reale. Industria 0,2%, è significativo, anche perché effettivamente tutto quello che è l'esportazione e tutto il resto è l'unica realtà con l'internazionalizzazione che tiene. Purtroppo le realtà piuttosto amare sono le altre. Il commercio al dettaglio in modo particolare, meno 4,2%, mentre la grande distribuzione meno 1,1%. Però che fa specie è che anche il settore alimentare effettivamente sta perdendo tantissimo. Sono scesi ancora i consumi delle famiglie? Sono scesi ancora e questo preoccupa veramente tanto anche perché il settore alimentare, perché il genere di prima necessità è importante. Perciò quando incominciamo ad avere rinunce sull'alimentare è significativo. L'edilizia ha continuato ancora a produrre, a costruire, ma non vende. Le prospettive per il futuro poi non sono certo rose. Assolutamente no. È importante che sotto il mondo imprenditoriale ognuno di noi faccia coscienza con la propria impresa, valuti attentamente quelli che sono i prossimi investimenti e non è questo il momento di scialacquare. È ovvio che ripaga l'alta professionalità. Abbiamo tre dogmi a livello di Camere di Commercio e sono la formazione, l'internazionalizzazione e l'innovazione. Su questi tre perni noi andiamo a fondare praticamente quello che sarà un 2012, secondo me sicuramente un attimino migliore dello stato attuale.